Sono Alex Buroni della Stark, dipartimento marketing, siamo qua all'ISIA 2013 e abbiamo portato i seguenti prodotti, una libreria interattiva touchless, non si può sbocchiare muovendo semplicemente le mani dell'aria, oltre a questa abbiamo una virtual hostess molto compatta che permette di rilevare i visitatori e dare il benvenuto a seconda della location in cui sei portato. Abbiamo poi il sistema interattivo a pavimento, abbiamo il sistema Star Trek Matrix che permette di rilevare il passaggio delle persone e di modificare e fare degli effetti grafici molto interessanti. Oltre a questo direi niente, venite a trovarci sul nostro sito www.stark1200.com